Vi annuncio subito che il primo gioco è un gioco nel quale ascolteremo una musica dal vivo. Avete già sentito un po' un tappeto musicale. Abbiamo questa volta con noi in studio una band che è stata giudicata come la miglior band per matrimoni. Pensate, hanno all'attivo 20 anni di carriera, centinaia di matrimoni festeggiati e loro sono i Banda Larga! Se senti Banda Larga poi ballerai, ballerai!